A dare l'allarme sono stati due bimbi di 7 e 9 anni. Sono usciti di casa da soli al mattino perché la mamma non si muoveva da letto. Il dramma si è consumato in un appartamento del River Village a Porto Recanati, dove è stata trovata senza vita Jennifer Giuliani, 28 anni. All'arrivo di carabinieri e sanitari la casa era in ordine e il corpo non mostrerebbe segni di violenza. La donna con tutta probabilità sarebbe stata stroncata da un malore ma sarà l'autopsia già disposta dal magistrato a chiarire le cause della fine della giovane madre. I bambini avrebbero riferito agli inquirenti che la donna sarebbe caduta la sera prima, si sarebbe rialzata dal pavimento e poi sarebbe andata a letto dove è stata trovata stamattina senza vita. La morte risalirebbe alla nottata, la sera prima infatti i carabinieri ci avevano parlato. Da quanto si apprende infatti il marito della donna che si trovava agli arresti domiciliari, è stato arrestato proprio ieri sera per evasione, si era allontanato da casa e ha trascorso la notte in cella di sicurezza. Dunque l'uomo sarebbe del tutto estraneo alla morte della moglie.